Oggi la nuova resistenza in cosa consiste? Ecco l'appello ai giovani di difendere queste posizioni che noi abbiamo conquistato, di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè, oggi ci vuole due qualità, a mio avviso, cara amica. L'onestà e il coraggio. L'onestà... L'onestà, l'onestà. E quindi l'appello che io faccio ai giovani è questo, di cercare di essere onesti. Prima di tutto la politica deve essere fatta con le mani pulite. Non ci possono essere. Se c'è qualche scandalo, se c'è qualcuno che dà scandalo, se c'è qualche uomo politico che approfittia della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere denunciato. L'onestà, l'onestà, l'onestà. L'onestà, l'onestà. L'onestà, l'onestà. L'onestà, l'onestà. L'onestà, l'onestà. L'onestà, l'onestà. 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 L'onestà, 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 l'onestà. L'onestà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.